Buonasera signori, intervista migliore in campo Carlo Abbate del militante dei Paco, partire appena terminato contro il Corci Conos, punteggio 3 a 3, Carlo Abbate migliore in campo. Carlo, parliamo un po' di riporto. Purtroppo siamo una squadra ancora in rodaggio perché questa c'è da dirlo, è la prima volta che siamo venuti su questo campo a giocare insieme. Inizialmente fin quando le gambe e il fiato c'erano abbiamo cercato di costruire il gioco, poi alla fine siamo usciti sempre fuori alla nostra maniera e forse è per questo che mi hanno dato il titolo di migliore in campo perché sulla poca tecnica io intervengo sempre alla grande. Senti, un 3 a 3, meritato? Sì, devo dire la verità che mi aspettavo che questa squadra fosse un po' più scarsa. Non so se sono forti tecnicamente perché comunque il campo è bagnato, il pallone scivola. In attesa che l'inviato ci porta il premio, siamo quasi a 2 minuti. Ancora tutto da decidere, però per il momento questi qua si sono rivelati a essere forti. Anche perché non li sono forti. Quali sono le tue ambizioni adesso? No, le ambizioni individuali non ce ne sono, fortunatamente... Va bene, parlo sempre di squadra. A livello di squadra no, dobbiamo vincere lo Stato Orneo, dobbiamo vincere assolutamente. Va bene, ho un bel messaggio dedicato a tutti i partecipanti del 7 Cup, un saluto? Un saluto ai partecipanti e che venga il migliore. Bravissimo Carlo, ciao ragazzi.